L'inchiesta sul bonus 110 continua ad allargarsi. Più proseguono le indagini da parte della Procura di Napoli, più si scoprono furbetti che hanno beneficiato del bonus senza mai aver eseguito alcun lavoro, tra cui anche due cilentani. La Guardia di Finanza di Fratta Maggiore è riuscita così a sequestrare 772 milioni di euro, riconducibili a 143 tra persone fisiche e giuridiche, principalmente residenti nelle province di Napoli e Caserta, di cui il 70% per settori o richiedenti di reddito di cittadinanza, ma anche parcheggiatori abusivi, persone legate alla criminalità organizzata e addirittura un ex killer del clan dei Casalesi, detenuto nel carcere di Santa Maria Capoavetere. Le indagini sono partite il marzo scorso, quando è stata scoperta l'attività illecita sulla circolazione di crediti per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico da parte di due fratelli di Vallo della Lucania, che sarebbero stati intestatari di altrettante aziende edili, di fatto senza personale e mezzi. I finanzieri, infatti, indagando sulle loro attività svolte tra il 2021 e l'inizio del 2022, hanno scoperto che i due fratelli si aiutavano a vicenda. Uno risultava l'esecutore dei lavori, l'altro simulava di realizzarli nella sua azienda. La parte rimanente dei finanziamenti veniva versata sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e riversata ad altri soggetti compiacenti che li monetizzavano. Una truffa ben congegnata, che è stata per fortuna portata alla luce, grazie al capillare lavoro svolto dalla Procura di Napoli Nord, guidata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, e che ha permesso agli inquirenti di frenare una frode milionaria.